Musica Buonasera e bentrovati all'edizione delle 19 del TG6 in apertura la vicenda giudiziaria che riguarda la sciagura dell'hotel Rigopiano di Farindola Disastro valanghivo colposo, questa è l'accusa mossa dagli avvocati del comune di Farindola e in particolare del sindaco Ilario Lacchetta che hanno denunciato la regione Abruzzo per mancata attuazione del piano delle valanghe e della carta di localizzazione probabile delle valanghe Sentiamo i dettagli nel servizio di Paolo Renzetti Gli avvocati del comune di Farindola, quasi quattro mesi dalla tragedia dell'hotel Rigopiano passano al contrattacco con una denuncia presentata presso la Procura della Repubblica del Tribunale dell'Aquila per denunciare la regione Abruzzo per si sostiene chiare responsabilità sul disastro del 18 gennaio scorso in relazione al mancato possesso e utilizzo come previsto dalla legge 47 del 1992 della CLPV, ovvero della carta di localizzazione probabile delle valanghe che si è adottata avrebbe potuto prevedere sempre secondo i legali del comune farindolese la tragedia che ha causato 29 vittime chiesto dai legali anche il sequestro di tutte le mail presenti sui server della regione Abruzzo sulla questione valanghe Noi abbiamo denunciato alla Procura della Repubblica dell'Aquila la mancata attuazione di una legge regionale specifica che è la legge regionale 47 del 1992, quindi una legge inattuata dal 1992 che prevedeva la realizzazione della CLPV che sarebbe la carta di localizzazione dei pericoli da valanga che avrebbe permesso certamente una volta realizzata quindi realizzata dalla protezione civile regionale approvata dalla giunta e notificata a tutti i comuni interessati la attuazione di strumenti specifici da parte dei comuni per evitare qualsiasi tipo di evento in zone valanghive L'unica carta che è stata realizzata è una carta storica delle valanga che non è una carta precettiva ma è semplicemente una individuazione di tutti gli eventi che si sono verificati negli ultimi 60 anni in Abruzzo e in questa carta non c'è la zona di Rigopiano perché a Rigopiano negli ultimi 60 anni non c'è stata nessuna valanga Noi abbiamo avuto sin dall'inizio il mandato da parte del sindaco Lacchetta anche prima che lui venisse indagato formalmente di accertare quali erano effettivamente le cause della valanga cioè accertare la verità perché anche la comunità di Farindra doveva comprendere qual era la verità Ecco per questo motivo noi abbiamo fatto sin dall'inizio tutta un'attività tecnica attraverso i nostri consulenti che ha permesso di effettuare tutti questi accertamenti anche con richieste di atti alla regione agli organi competenti regionali La nostra tesi è che se ci fosse stato questo ottimo strumento preventivo la valanga sul Rigopiano non avrebbe fatto vittima Questo è un dato certo, scientificamente provato E' questo che stiamo dimostrando attraverso i nostri tecnici perché come avete visto abbiamo dimostrato i nostri tecnici hanno effettuato una porzione un'ipotesi quindi nostra di carta di localizzazione dei pericoli della valanga e l'avete visto nelle slide che abbiamo proiettato da cui risulta che proprio effettuando questi accertamenti tecnici attraverso l'analisi dell'ortofroto quindi le foto dall'alto eccetera che c'era il pericolo di valanghe a Rigopiano se soltanto fosse stata realizzata la carta che noi abbiamo realizzato i nostri tecnici hanno realizzato in pochi giorni Il 28 maggio prossimo su richiesta dei legali del comune di Farindola del sindaco Ilario Lacchette e del tecnico comunale Enrico Colangeli sarà ascoltato sabatino Belmaggio dirigente del servizio prevenzione dei rischi di protezione civile alla presenza del PM Andrea Papalia nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla procura di Pescara sul disastro dell'hotel Rigopiano Andiamo avanti con il nostro giornale adesso ci spostiamo a Teramo le associazioni Arco Consumatori e Liberi Cittadini 5 Stelle chiedono l'immediato non utilizzo della sorgente d'acqua nei pressi dei laboratori del Gran Sasso intanto le analisi effettuate dall'Università di Padova confermano che l'acqua del ruzzo è sempre stata potabile gli esperti ribadiscono che non esiste alcun rischio di radioattività sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli e alla fine sono arrivati anche i risultati dell'Università di Padova sull'acqua del Gran Sasso potabile e buona sempre anche nei giorni sospetti fine dell'incubo dunque per la popolazione che dovrebbe essere più che mai certa che non c'è stato alcun pericolo per la salute pubblica ora però si apre una nuova fase di riflessione sulla necessaria messa in sicurezza delle canne autostradali e dei laboratori di fisica nucleare adiacenti ad alcuni punti di captazione idrica della montagna su questo tema si mobilitano le associazioni Arco Consumatori di Teramo e Liberi Cittadini 5 Stelle che anche senza giustificazione scientifica chiedono un'indagine epidemiologica per verificare se mai ci fosse stato un aumento di patologie tumorali legate all'inquinamento e l'immediato non utilizzo da parte del gestore Luzzoreti della sorgente nei pressi dei laboratori noi chiediamo assolutamente che non in maniera temporanea ma in maniera definitiva non venga usata quella sorgente che nasce dall'interno del laboratorio questo lo diciamo da tempo e quindi veda si rinunci in modo definitivo perché può succedere che adesso poi passata questa buriana dopo un mese, due mesi venga riattivata ora per noi è impossibile che possa essere messa in sicurezza e quella può rappresentare per mille motivi sempre un pericolo costante per quanto riguarda poi il ventilato rischio di radioattività nell'acqua sempre legato alla prossimità dei laboratori con le sorgenti d'acqua del Gran Sasso gli esperti escludono ogni tipo di contagio spiegando e razionalizzando il problema ma c'è stato mai un pericolo vero che la nostra acqua del Gran Sasso fosse radioattiva? forse all'epoca di Chernobyl che è interessato tutta l'Europa io non credo assolutamente ma non è a me che deve essere posta questa domanda ma all'arta che esegue le misure di radioattività ambientale che non hanno mai rilevato nessun tasso di radioattività anche perché vorrei spiegare e comunicare una cosa molto importante che gli esperimenti che si tengono nel laboratorio del Gran Sasso perché sono fatti con 1400 metri di roccia sopra ma di roccia poi quella del Gran Sasso e non dolomitica perché? perché proprio devono assicurare assenza di radiazioni esterne cioè radiazione cosmica zero dovrebbe, e questo io lo chiedo come cittadino dovrebbe il responsabile dei laboratori tranquillizzare tutti i cittadini su questo argomento Chiedere la messa in sicurezza della sorgente del Gran Sasso sarà dunque una priorità da parte delle istituzioni competenti così come quella di vincere la diffidenza dei consumatori che rischiano di essere strumentalizzati Ancora polemiche politiche sul project financing dell'ospedale di Chieti le opposizioni con in testa Forza Italia continuano a criticare il progetto di Maltauro e dicono viene anche osteggiato dai capi di partimento del clinicizzato Teatino vediamo insieme il servizio da parte delle opposizioni quella contro il project financing per il nuovo ospedale di Chieti sta assumendo i contorni di una crociata sia il Movimento 5 Stelle che Forza Italia infatti insistono sulla inefficacia e sugli errori contenuti nelle carte della Maltauro che ha presentato alla regione il progetto di finanza i grillini con Sara Marcozzi sottolineano come i Ruppe e l'ANAC abbiano già sollevato dubbi sul progetto bocciature a cui si aggiunge continua il capogruppo dei 5 Stelle quella dell'esperto nominato dalla ASL la professoressa Veronica Vecchi direttore della formazione executive del MISB dell'Università Bocconi di Milano la Marcozzi in una nota sottolinea come siano stati persi tre anni di tempo ponendo l'accento sull'arroganza del governo regionale sordo alle criticità evidenziate Forza Italia come Orofebbo attacca invece portando in primo piano il parere negativo al project dei capi dipartimento dell'ospedale clinicizzato di Colle dell'Ara per gli azzurri il nuovo ospedale non tiene conto delle reali esigenze di pazienti ed operatori sanitari ben 12 responsabili UOC cioè un'unità complessa quindi capi dipartimento sono intervenuti ridicolizzando il progetto in termini sanitari in termini di costi economici e finanziari in termini di costo servizi in termini proprio di ingegneria sanitaria questo è un progetto che è stato fatto credo forse pensando ad altro non tenendo conto di quelle che sono la reale situazione dell'ospedale di Chieti per esempio sono sbagliati i posti letto anziché 498 non tengono conto che ne sono 404 per cui chiedono cifre superiori a quelle che dovrebbero chiedere c'è il servizio di radiologia che oggi costa 2 milioni e 2 loro sparano 7 milioni e 7 quindi insomma ci sono relazioni che veramente gridano vendetta io mi auguro che a questo punto ci si fermi con tre anni di ritardo e si dica va bene accantoniamo questa sceneggiata e su questo argomento è arrivata la replica di Regione Abruzzo affidata a Camillo D'Alessandro che è consigliere regionale del Partito Democratico che in una nota scrive la Regione Abruzzo ha preteso un'istruttoria severa sul nuovo ospedale di Chieti abbiamo sottoposto ad accurato stress e test tutti gli aspetti fondativi della proposta della ICM poiché vogliamo che non vi siano dubbi sulla necessità e bontà dell'operazione abbiamo avvocato dalla ASL Teatina la documentazione completa per una revisione scrupolosa di ogni singola riga e in base ad essa prenderemo una decisione la risposta sta nelle carte dice D'Alessandro non nelle chiacchiere di Forza Italia e Movimento 5 Stelle e proprio dei 5 Stelle parliamo adesso spostandoci all'Aquila perché da parte dei grillini sono arrivate critiche pesanti all'operato del sindaco dell'Aquila sindaco uscente Massimo Cialente e ovviamente il clima è caldo in vista delle prossime amministrative sentiamo perché nel servizio di Filippo Tronca sapere che il sindaco dell'Aquila responsabile della ricostruzione non ha pagato per 5 anni i lavori di casa propria e che solo dopo la pubblicazione quando sono diventate pubbliche le indagini ha cominciato a pagare a 300 euro al mese per cui finirà di pagare questi lavori nel 2022 credo che sia un dato politico che la gente deve conoscere Il Movimento 5 Stelle entra nel vivo della campagna elettorale lanciando bordate al sindaco Massimo Cialente Fosso Corti Antonio Perrotti candidati e la senatrice pentastellata Enza Blundo tornano infatti sulla vicenda delle intercettazioni telefoniche ambientali con protagonista anche il sindaco dell'Aquila nell'ambito dell'inchiesta per induzione in debita che si è conclusa con una sentenza di non luogo a procedere per Cialente nonostante ciò i pentastellati sostengono che queste intercettazioni pur se non hanno rilevanza penale gettano ombra sull'operato dell'aggiunta di centrosinistra riferendosi ad articoli di stampa si chiedono perché mai il sindaco ha avuto un trattamento di favore per lavori in casa sua da 20.000 euro da parte della Edilfrair visto che solo dopo 5 anni ha cominciato a pagare rate da 300 euro il sindaco ha poi affermato di sapere che se i consiglieri comunali sono al soldo della grande distribuzione perché non dice chi sono recandosi in primis alla procura la domanda al vetriolo a questo punto del Movimento 5 Stelle la senatrice Enza Blundo ritiene dunque imprescindibile che diventi operativa la commissione d'inchiesta parlamentare sulla ricostruzione post-sismica dell'Aquila tuttavia una ricostruzione così pilotata e così gestita male non vede a tutt'oggi l'attivazione della commissione d'inchiesta di una commissione d'inchiesta che è stata deliberata completamente è stata già fatta la richiesta dei componenti e ancora non abbiamo la convocazione da parte del presidente Grasso e a stretto giro è arrivata la risposta del sindaco Massimo Cialente rispetto alle accuse dei 5 Stelle sindaco che ha liquidato tutto come fake news mostrando le carte sentiamo ancora Filippo Tronca non si fa tendere la replica amareggiata e a tratti ironica del sindaco dell'Aquila Massimo Cialente alle bordate del Movimento 5 Stelle fondata assicura il sindaco non solo su un'inchiesta archiviata che mi ha visto uscire pulito ed estraneo ma anche su vero e proprio fake news non è semplicemente vero infatti assicura Cialente che sto pagando i lavori di casa mia a rate di favore da 300 euro e mostra le fatture dei pagamenti da 1300 euro non 300 come detto dai pentastellati e di cui ne sono state pagate già ben 14 e fa riflettere in Cialza Cialenti in particolare che una senatrice che ricopre il ruolo che fu di Benedetto Croce in riferimento a Enza Blundo si presse iniziative politiche fondate su articoli di stampa a loro volta fondati su bufale siamo a livelli a mio avviso mafiosi di consigliare i noti in questa città e adesso non c'era alcun bisogno di attaccare me non sono neanche candidato su una vicenda che mi ha visto prosciolto su un'indagine stranissima e adesso esce questa cosa su un errore di un giornale addirittura viene ventilata l'ipotesi per l'errore io sto pagando 1300 euro al mese molto faticoso in 18 rate come avevo concordato allora e ho quasi finito grazie a Dio mi mancano ancora 4 faticosissimi mesi e la cosa che mi dispiace è che una senatrice è importante in Italia io credo dopo Benedetto Croce siano pochi altri senatori che hanno roma qual è la serietà di un'interrogazione di un'interrogazione di un'interrogazione di un'interrogazione di un'interrogazione di un'interrogazione venga tratti l'inganno perché viene riportato per sbaglio anziché 1300 per un forse un errore di battitura è una cosa grave per l'istituzione bisogna dunque chiedersi chi e perché ha fatto uscire fuori intercettazioni di un'inchiesta archiviata nel bel mezzo di una campagna elettorale conclude Cialente la questione è un'altra si vota fra 26 giorni 25 è un appuntamento importantissimo il centro-sinistra porta avanti e rinnova un grande progetto la destra non ha elementi e la destra e i movimenti tipo 5 stelle non avendo niente si stanno attaccando a niente andiamo avanti ancora ma lasciamo la politica cambiamo argomento per spostarci e tornare di nuovo a Chieti grazie ad un progetto di reinserimento lavorativo sono stati i detenuti uomini del carcere teatino ad ampliare la sezione femminile oggi c'è stata l'inaugurazione vediamo il nostro capo del dipartimento crede molto nel lavoro di Cassa Mende che è il lavoro di migliorare le condizioni dei carceri con il lavoro dei detenuti ma questo è possibile solo se chi li sorveglia e chi fa la selezione cioè l'area educativa e l'area della polizia penitenziaria riescano a lavorare bene nuovi spazi per migliorare la vita delle detenute al carcere di Madonna del Freddo a Chieti sono stati completati lavori di ampliamento della sezione femminile lavori che hanno impiegato mano d'opera interna cioè sono stati gli stessi detenuti con il proprio lavoro a completare l'adeguamento al taglio del nastro ha partecipato anche il sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia Federica Chiavaroli tornata nel carcere di Chieti dopo averlo visitato qualche mese fa e quindi è un progetto che ha arrecato almeno due benefici uno è quello di migliorare le condizioni di vita in carcere delle donne l'altro è quello di migliorare la qualificazione professionale degli uomini attraverso questa attività lavorativa quindi questo certamente è un esempio positivo è un bel progetto tutte le attività che si fanno in carcere volte alla rieducazione e al reinserimento lavorativo dei detenuti sono attività che incidono positivamente sulla sicurezza delle comunità perché queste sono tutte attività volte a recuperare queste persone a toglierle dalla delinquenza e grazie a questo lavoro le nostre comunità possono essere più sicure il sindaco di Lanciano Mario Pupilla ha ordinato la sospensione delle attività didattiche delle scuole che si trovano nelle zone interessate dallo stop all'erogazione dell'acqua da parte della Sasi dalle ore 7 di domani 17 di maggio alle ore 8 di giovedì 18 maggio questa la decisione da parte dell'amministrazione comunale andiamo avanti conferenza stampa questa mattina a Pescara per il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Mario Mazzocca che ha illustrato il documento di adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti sta continuando il percorso ai fini dell'approvazione del nuovo piano di gestione dei rifiuti un piano che al contrario del passato non prevede ricorso all'incenerimento ma persegue il tema dell'economia circolare quindi del classico trinomio uso riciclo e riuso e quindi il tema dell'economia circolare l'abbandono definitivo dell'economia lineare questo piano servirà anche ai fini della dimostrazione della non necessarietà sia dal punto di vista tecnico che economico che funzionale di un impianto di incenerimento qui in Abruzzo una gestione sempre più sostenibile comunque al di là di tutto sì devo dire che i dati negli ultimi due anni grazie anche all'attività che abbiamo messo in campo che è un'anticipazione delle previsioni del nuovo piano di gestione dei rifiuti si stanno realizzando centri di riuso piattaforme ecologiche centri di raccorto per circa 36 milioni di euro finanziate nel corso degli ultimi anni dal 2015 in poi dalla regione Abruzzo fatto che chiaramente ha inciso favorevolmente sulla riduzione progressiva della quantità dei rifiuti incidendo beneficamente anche sul tema della raccolta differenziata non è un caso che a ottobre scorso siamo stati premiati a Napoli come la regione che nel ambito centro-sud ha realizzato delle performance migliori si è aperta oggi al Grand Hotel Adriatico di Montesirvano la tre giorni del settimo congresso nazionale dell'SLP CISL per il sindacato è stata l'opportunità di ribadire un secco no al processo di privatizzazione che sta interessando poste italiane che andrebbe dicono a pregiudicare posti di lavoro e qualità dei servizi ai cittadini Andrea Costantini Gianattasio il momento del rinnovo dei quadri del sindacato delle poste è un momento anche di confronto sul tema principale che riguarda appunto poste italiane la privatizzazione voi oggi ribadite il no verso questa procedura verso quest'altra tranche di privatizzazione Sì, noi lo ribadiamo soprattutto per i cittadini e per i clienti cittadini poste italiane è la più grande azienda di questo paese che però fornisce dei servizi ai cittadini quindi va bene un po' di privatizzazione per renderla più moderna più al passo coi tempi ma non possiamo negare che quasi tutti i servizi di poste italiane sono per il cittadino e il cittadino deve essere per forza protetto da un management da una proprietà che è dello Stato Come è noto la scisa poste è contraria il mondo sindacale è contrario a questa privatizzazione che se dovesse arrivare cambierebbe il volto dell'azienda per come abbiamo conosciuto meno uffici meno servizi meno socialità e a questo noi diciamo un netto no ci preoccupa anche per la tenuta dell'occupazione nessun azionista privato manterrebbe l'azienda come la conosciamo con i livelli occupazionali attuali ci sono delle proposte che fate o farete al governo parte nostra è che l'azienda sia mantenuta in mano pubblica e che i lavoratori possano partecipare alla vita dell'azienda attraverso un modello duale in cui ci sia una vera partecipazione e una vera democrazia economica all'interno dell'azienda la più grande azienda di servizio italiana oltre a questo mi permetta di dire un altro argomento forte che ci sarà è prettamente dei lavoratori ed è un contratto nazionale non rinnovato dall'azienda da tre anni ed è la seconda battaglia che questo congresso porterà avanti con un'azienda sorda alle esigenze e anche legittimamente ai lavoratori che hanno portato come tutti i cittadini possono vedere poste italiane dal timbro e la ceralacca al computer e all'app andiamo avanti ancora restiamo a parlare in qualche maniera dei temi finanziari collegati alle banche l'assemblea dei soci della banca di credito cooperativo di Castiglione Messerraimondo e Pianella ha approvato il bilancio 2016 dell'istituto di credito e ha votato l'adesione ad Icrea come capogruppo il servizio è della redazione di Vestina News Il direttore della banca di credito cooperativo di Castiglione Messerraimondo e Pianella Simone Di Giampaolo questo è il primo bilancio della banca di credito cooperativo dopo la fusione con la BCC di Teramo Anche il 2016 è stato un anno impegnativo e difficile proprio sia perché la banca di credito cooperativo ha affrontato l'importante operazione di incorporazione della BCC di Teramo sia perché la economia locale continua a risentire di una forte crisi la fusione con Teramo non è stata una limitazione ma è stata comunque un'operazione epocale per la storia della nostra banca il bilancio 2016 ha conseguito comunque ottimi e importanti risultati prima di tutto è arrivato il patrimonio ad un 65 milioni di euro e questo corrisponde a un indice patrimoniale del 18% i 2 milioni di utili netto hanno lasciato spazio accantonamenti per 13 milioni infatti l'utile lordo era di 15 milioni 13 li abbiamo destinati ad accantonamenti per il rischio di credito rafforzando le coperture sia sulle sofferenze abbiamo portato le coperture dal 52 che già era importantissimo al 58% abbiamo rafforzato le coperture sulle inadempienze fino al 27% e per la prima volta abbiamo coperto anche i crediti scaduti pare il 10% un punto importante come dicevamo è il rinnovo di queste cariche come ho detto purtroppo in questo momento ci sta una fase di transizione che è data sia dalla riforma del credito cooperativo sia che quest'anno abbiamo avuto questa fusione per integrazione della BCC di Terra ma quindi abbiamo ritenuto mantenere gli organi che ci sono per poter far sì che in questo triennio si possa preparare una nuova generazione di soci e poter entrare nel consiglio di amministrazione Ed ora la cultura con il Maggio Fest a Teramo è stato illustrato il libro Vicino e Visibile si tratta di una raccolta di poesie realizzata dalla scrittrice Daniela Attanasio il servizio è stato presentato Vicino e Visibile l'ultimo libro di poesie di Daniele Attanasio per le edizioni Aragno nella biblioteca provinciale Melchiori ed Elfigo il libro è un interessantissimo percorso interiore sulla visibilità e surreale e sulle volgarità del mondo in qualche modo ed è stato molto recensito in particolare Galaverri sul Corriere della Sera ne ha parlato come una delle più interessanti silogi poetiche degli ultimi anni è un libro diviso in sei sezioni in sei capitoli ognuno di questi capitoli tratta potrei dire un tema oppure meglio forse un'idea di poesia e credo che il dato appunto più evidente e che forse lo fa distaccare un po' dalle raccolte precedenti sia questa aderenza alla realtà osservata con un occhio ritengo attento ma anche disposto appunto a spostarsi poi a trovare altre soluzioni di suono e di significato continua la nostra sezione libri ed è con i tormenti del giovane Kilgren di Daniele Kilgren per le lezioni ricerche e redazioni presso la sala polifunzionale della provincia ci sarà una presentazione di Paolo di Felice di Giovanna Frastalli naturalmente sarà presente l'autore e la lettura di alcuni brani del libro sarà a cura di Vincenzo Macedone e con questo appuntamento si chiude la parentesi dedicata ai libri del Maggio Fest per poi svilupparsi successivamente con un omaggio a pannella e con una serata o anzi un pomeriggio in ultrato con l'orchestra del Saltarello ora apriamo la pagina sportiva iniziamo dal calcio di Serie A nel pomeriggio ripresa degli allenamenti per il Pescara in vista del posticipo di lunedì sera contro il Palermo in quella che sarà l'ultima gara casalinga stagionale per il Delfino dopo domani a Pescina i Biancazzurri disputeranno un amichevole contro l'unico Sano Fondi squadra di Lega Pro intanto continuo a far discutere la scelta dei giocatori del Pescara di scusarsi con i tifosi per la pessima stagione alla fine della scorsa partita contro il Bologna andiamo ad ascoltare il capitano del Pescara Ledyan Memuschai Ci tenevamo a chiedere scusa per questa annata disastrosa perché abbiamo fatto malissimo e ci tenevamo a chiedere scusa a tutto il popolo pescaresa a tutti i tifosi che seguono il Pescara Ledyan c'è qualcosa che si può salvare in questo campionato? È difficile secondo te? C'è poco poco da salvare poco c'è da ripartire un nuovo anno cercando di di salire di nuovo immediatamente Guardando quello che sta facendo il Crotone c'è ancora più rammarico perché crediamo che questa squadra lo ha detto anche Zeman il Pescara non è inferiore al Crotone Sicuramente ora con i secoli ma non si va avanti però già dall'inizio ci sono stati tanti sbagli da parte di tutti soprattutto da noi che scendiamo in campo e penso che quest'anno ci serva da lezione per il futuro E parlato di futuro l'ultima prima di lasciarti ai colleghi tu hai il contratto come d'altronde anche Alessandro Bruno però diceva Bruno i contratti spesso lasciano il tempo che trovano tu saresti convinto di ripartire il prossimo anno nel Pescara in Serie B Ha detto bene Bruno i contratti ci sono ma a volte come se non ci fossero è inutile parlarne ora quelle sono decisioni che poi si decidono con la società con l'allenatore è inutile dire io di qua io di là io rimango a vita io vado via perché non serve ci sono tante cose che dipendono per il futuro se uno va bene all'allenatore se va bene alla società se va bene all'ambiente ci sono tanti fattori quindi quindi è inutile ora parlare parlare dei giocatori che rimangono giocatori che vanno via io ho un contratto sto bene a Pescara sono sempre stato bene l'ho detto anche settimana scorsa quindi vale lo stesso quello che ho detto settimana scorsa domenica inizia il cammino del Teramo nei play out con la trasferta di Lumezzane Biancorossi che da oggi pomeriggio sono tornati al lavoro allo stadio Bonolis sentiamo il dettaglio nel servizio di Jacopo Forcella 5 giorni prima di gara 1 contro il Lumezzane 5 giorni che separano il Teramo dal primo dei due grandi appuntamenti di questa stagione ne avrebbe fatto volentieri a meno il diavolo di questo spareggio ma si sa il calcio è così se si sbaglia si paga sempre in maniera salata ed allora Ugolotti ha utilizzato queste due settimane per cercare di ritrovare quella compattezza che è stato già fattore fondamentale per guadagnarsi la griglia migliore ora però serve l'ultimo sforzo mancano 180 minuti tra Saleri e Bonolis nei due stadi che aprirono campionato e girone di ritorno strano destino perché a Biancorossi è capitata proprio la formazione che niente meno a fine agosto diede il via la lunga sofferenza del campionato quella che pochi giorni prima di fine anno regalò un'altra delusione al pubblico del Bonolis con un pari a tempo scaduto ed è inutile pensare a quanto oggi quei due punti avrebbero fatto la differenza d'altronde con i Lombardi il Teramo quest'anno non ha mai vinto ha segnato solo un gol e ne ha subiti tre sembrerebbe una bestia nera dunque il Lumezzane eppure qualcosa di diverso domenica ci sarà rispetto alla stagione regolare oltre che a qualche pedina diversa ci sarà un allenatore differente a sedersi sulla panchina del diavolo già perché le due gare di campionato con le Lumezzane le ha giocate sempre con l'Amberto Zaule al timone ora no basterà? difficile dirlo con certezza il Teramo deve provarci sia in trasferta che in casa non ha possibilità perché ne ha già sprecate in quantità industriali da oggi ritrova il suo stadio per gli allenamenti quello stadio che il 28 maggio spera di non essere un fattore determinante perché vorrà dire che il più è già stato fatto nella gara di andata Termina qui la seconda edizione del TG6 il prossimo appuntamento è alle ore 23 grazie per essere stati con noi vi auguro una buona serata grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.